Dice di avere fotografie di un uomo mentre fa sesso in auto con una ragazza in una zona isolata di Padula e lo ricatta chiedendogli 1.500 euro per non divulgare quelle foto. Con l'accusa di estorsione è finito in manette un pastore 22enne di Padula. Il giovane è stato tratto in arresto nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. I fatti che lo hanno messo nei guai risalgono a circa due settimane fa. Il ragazzo, stando alla versione da lui raccontata, per poter estorcere il denaro avrebbe fotografato la coppia durante la consumazione di un rapporto sessuale in auto in una zona isolata del paese, probabilmente in pieno giorno. Il 22enne dopo qualche giorno ha contattato l'uomo per chiedergli il denaro in cambio delle foto. La vittima del ricatto, un 42enne, anche egli di Padula, ha fatto credere di accettare la proposta di scambio, ma subito dopo essere stato contattato dall'estorsore, si è recato dai carabinieri a sporgere denuncia, sostenendo che si tratta soltanto di un blef e che non esisterebbe alcuna foto perché lui non ha mai avuto alcun rapporto sessuale in auto. Dopo la denuncia sono partite così le indagini da parte dei militari dell'arma ed è stata prontata la trappola per incastrare il ricattatore. La vittima e il suo guzzino si sono dati appuntamento all'interno di un'attività commerciale, sempre a Padula, dove sarebbe dovuto avvenire lo scambio. L'estorsore si è recato nel luogo stabilito, ha trovato la busta con i 1.500 euro, ma insieme ai contanti ha trovato anche i carabinieri che con questo tranello hanno avuto la possibilità di arrestarlo in flagranza di reato mentre stava prendendo la busta contenente i soldi. Il giovane pastore ora si trova rinchiuso presso il carcere di Sala Consilina a disposizione dell'autorità giudiziaria.